ma mica te sto pià per culo sai bella è vero che stai pià per culo davvero dai un bacetto ti posso dar un bacetto Anna? sto facendo una battuta allora dai vi facciamo un po' lì tu stavo all'altro, te andate a finire vai vai auguri, tanti auguri Anna, l'immortaliamo lì così l'anna vai vicino a lui vai, mettetevi lì Anna, allora facciamo una cosa ti voglio dedicare una canzone di Renato vediamo vediamo quello che è capace di fare allora, mettete lì mettete seduto un attimo vai no, ti canto più su oppure cercami quale ti piace? quale ti piace, dimmi vabbè io ci provo a cercate no, no, mi cerca, guarda mi ha fatto cercando senta signora bella ti voglio dire una cosa oggi ho mangiato mi ha fatto ricadoni con la pagliata se potevi mangiare i facioli con le gotiche non si scureggiavi meglio ma scusi, c'è da rento non andiamo visto al pietro ti è, Anna, ti è rispondi, gli va adesso fai le mangiate i ricadoni con che? che la pagliata se potevi mangiare i facioli con i gotiche i gotiche così scureggiavi bene quelli sono proprio buoni quando i cucinai nasceranno sta signora ti vanno a sapere le vecchie si, si vabbè, va, va avanti ci ha vato? si non ci hanno mai mandato? sempre canta quella amica sono abituato ma bene come lei no Anna, manda veci un po' non ti è nato zero e quale canti? cercami cercami grazie